buongiorno benvenuti in una nuova puntata di storia di ordinaria pedagogia io sono Pierpaolo Cavagna e questo è un video monografico dedicato all'ultima opera di Igor Salomone secondo me saggio autobiografico sulla consulenza pedagogica il libro è edito da Amazon ma ha un costo molto basso 10 euro il che dovrebbe stimolare alla lettura è un libro piuttosto piccolo e molto discorsivo però è molto adesso al punto che per questa puntata mi sono sdoppiato in tre quindi saranno una serie di domande poste direttamente a Igor che si è reso disponibile a fornirci le risposte fatto con altri due colleghi quindi vedrete anche la dottoressa Sharon Tia e la dottoressa Laura Corrigas poi non so a livello di montaggio come ci vedrete però saremo noi tre che poniamo domande a Igor e non so neanche come farete a Igor perché Igor registrerà in separata sede causa distanze geografiche e covid quindi questo è il programma della giornata buongiorno innanzitutto voglio ringraziare tutti voi per l'opportunità che mi avete offerto di parlare del mio libro, della mia ultima fatica dell'ultimo parto pedagogico in ordine di tempo che ha avuto un inizio abbastanza travagliato uscito nel dicembre del 2019 voi sapete cosa è successo nel frattempo in tutti questi mesi certamente non mesi perfetti, ideali per promuovere una pubblicazione e quindi ogni occasione, ogni possibilità che mi viene offerta di poterne parlare è assolutamente gradita nell'introduzione dici che l'educazione è un mestiere difficilissimo e che al giorno d'oggi farlo un po' meno peggio sarebbe già un buon risultato cosa intendi con un po' meno peggio? in tutti questi decenni allora veniamo alla prima domanda che è una domanda già bella potente è vero che sono praticamente le prime parole del mio libro sono le prime parole dell'introduzione al libro che ho voluto dedicare all'educazione a uno scenario o agli scenari che possiamo provare a immaginare a descrivere dell'evoluzione di ciò che chiamiamo educazione e quindi va bene prendo immediatamente in mano ciò che mi viene chiesto allora che cosa vuol dire fare l'educazione un po' meno peggio? allora innanzitutto penso che riprendendo ciò che ho scritto nell'introduzione bisogna dirsi e bisogna ripetersi e bisogna accettarlo che l'educazione è un compito maledettamente difficile lo è sempre stato e quando dico sempre dico sempre nel senso che dalla mia prospettiva l'esperienza educativa è coema all'homo sapiens quindi considero le strutture educative le strutture adattive attraverso le quali l'homo sapiens si è evoluto da diverse decine di millenni a questa parte quindi sicuramente non è mai stata facile l'educazione ma quello che l'introduzione vuole mettere a fuoco è l'esplosione della complessità dell'esperienza educativa nel nostro mondo nel mondo contemporaneo una complessità che deriva da una molteplicità di fattori per esempio l'educazione la fanno tutti la fanno in molti luoghi da molte prospettive attraverso una molteplicità di ruoli e soprattutto tutti questi attori che partecipano all'esperienza educativa di ogni singolo individuo lo fanno non alla vista l'uno dell'altro come è accaduto per moltissimi millenni in ogni società antica e tradizionale ognuno di questi attori pratica il proprio pezzo di educazione all'interno del proprio luogo distante dai luoghi nei quali viene praticata il resto dell'educazione dagli altri e quindi in qualche modo c'è una parcellizzazione sempre più esplosiva di ciò che chiamiamo esperienza educativa di ogni singolo individuo una parcellizzazione, una frammentazione e non è un caso che la preoccupazione principale odierna sia quella di raccordare questi diversi soggetti le parole d'ordine sono progetti integrati partnership educativa che da soli dicono della complessità per l'appunto costituita da una molteplicità di gesti educativi compiuti in momenti diversi in luoghi diversi e che faticano evidentemente a trovare una prospettiva non dico comune ma perlomeno una prospettiva di senso condivisa poi certamente l'idea centrale di questa frase cioè quando esprimo il desiderio che l'educazione non dico possa essere fatta un po' meglio ma almeno un po' meno peggio è chiaramente una provocazione questo mi pare evidente ma sta a indicare una categoria quella del meglio e quella del peggio il meglio barra peggio che fa presagire una cosa importantissima e cioè che l'educazione possa essere migliorata che possa peggiorare ma possa anche essere migliorata e per essere migliorata bisogna che cominciamo a osservarla come un fenomeno sulla quale possiamo intervenire in termini qualitativi e anche se non soprattutto con una conoscenza e una capacità di penetrare il fenomeno educativo attraverso un processo di accumulo di sapere ovvero in direzione esattamente opposta alla direzione dominante odierna che influenzata dalla percezione che l'educazione sia una cosa complessissima rischia di portare a un soggettivismo radicale per cui ogni educatore che sia professionale che sia un genitore tende a di fronte alla complessità estrema dell'educazione a pensare che quello che fa è tutto quello che può fare è il massimo che può fare e soprattutto che ciò che fa non è confrontabile con quello che fanno gli altri ecco questa frase iniziale di apertura sull'ouverture del libro sta a dire esattamente questo l'educazione è fatta di gesti che possono essere osservati e quindi in quanto tali possono essere migliorati ma per essere migliorati per essere migliorabili bisogna mettere a tema la responsabilità di farla e di poterla valutare e di permettere che altri occhi la valutino perché senza un processo di valutazione dell'educazione l'educazione ovviamente non può essere migliorata dobbiamo tenerci quella che riusciamo a fare dobbiamo tenerci quello che ognuno riesce a fare senza poter intervenire quindi farla un po' meno peggio vuol dire cerchiamo di capire che cosa significa farla un po' meglio in un passaggio a pagina 32 fai riferimento ad una considerazione di Riccardo Massa il quale dice che se da un dizionario di pedagogia togliessimo tutti i termini mutuati da altre discipline quali ad esempio dalla medicina e dalla psicologia rimarrebbe ben poco ad oggi secondo te è ancora così o la situazione è mutata e se sì perché? Durante una delle conferenze che ho voluto chiamare semiserie sulla formazione un ciclo che ho tenuto qualche anno fa ho fatto un esercizio un gioco erano conferenze semiserie quindi giocavo con il pubblico ho fatto finta di trovare nella tasca della mia giacca un elenco di bisogni formativi era tra l'altro un elenco vero che io avevo in mano che mi era stato consegnato lo leggo e tutti i presenti tutti educatori pedagogisti sostanzialmente annuivano in modo vigoroso perché riconoscevano che i bisogni formativi sono sostanzialmente questi quelli per l'appunto raccolti in questo foglietto finito di leggere il foglietto e di raccogliere i consensi da parte del pubblico ho svelato l'arcano cioè che quel foglietto è in mio possesso praticamente da 30 anni quel foglietto è da 30 anni questo vuol dire che 30 anni fa l'elenco di bisogni formativi realizzato in quell'occasione da qualche coordinatore da qualche responsabile da qualche chip non ricordo dopo 30 anni ci troviamo di fronte ai medesimi e le persone le riconoscono come attuare quindi già mi pare che questo sia una risposta che potrebbe essere sufficiente a proposito di di un linguaggio pedagogico ancora in qualche modo fermo ad una colonizzazione da parte di linguaggi altrui ed estranei ma proviamo a fare un'ulteriore prova facciamo un elenco breve delle categorie più diffuse attualmente nei discorsi attorno all'educazione un elenco breve primo bisogno secondo benessere sono categorie che si trovano in ogni discorso si trovano nei progetti si trovano nelle carte di servizio apprendimento trauma vissuti efficacia barra efficienza organizzazione equip anamnesi diagnosi non è un elenco esaustivo ma insomma ci sono già una decina di categorie che si ritrovano con molta frequenza nei discorsi educativi allora la domanda è da dove vengono queste categorie quali tra queste categorie possiamo considerare squisitamente pedagogiche se ci facciamo questa domanda siamo in difficoltà bisogno benessere non sono sicuramente categorie pedagogiche vissuti trauma hanno più a che fare evidentemente con le teorie dell'inconscio efficacia efficienza organizzazione hanno più a che fare con le culture organizzative per l'appunto anamnesi diagnosi sono categorie mediche direte apprendimento apprendimento è sicuramente una categoria pedagogica no non credo perché l'apprendimento quando parliamo di apprendimento parliamo di processi mentali degli individui attraverso i quali ogni individuo impara la propria esperienza non parla l'apprendimento dell'esperienza educativa anche se può essere un risultato dell'esperienza educativa ora perché ci troviamo ancora di fronte a questa situazione che Riccardo Massa aveva già insomma in qualche modo denunciato apertamente e con forza denunciato più di 30 anni fa siamo sostanzialmente di fronte a una colonizzazione di altre culture appunto come ho detto prima le culture della mente dell'inconscio dell'organizzazione della salute ora dominano anche le neuroscienze che fra l'altro il dominio delle culture allogene nel mondo pedagogico vanno anche a mode oggi per esempio le categorie di origine psicoanalitica sono sicuramente meno di moda che non le categorie di tipo organizzativo o meglio ancora quelle legate allo sviluppo dell'eneroscienza al pedagogico alla fine cosa rimane? quando è che si sente in qualche modo proprio l'originarietà del linguaggio pedagogico quando abbiamo a che fare con categorie relazionali affettive e peggio quando abbiamo a che fare con categorie di tipo moralistico e che hanno a che fare con giusto e sbagliato ecco quando si sente parlare un educatore in termini di relazione e in termini di bene male giusto sbagliato allora lì siamo quasi certi che non c'è un'influenza esterna ma questo significa che il pedagogico rischia di rimanere inchiodato ad una prospettilinguaggio pedagogico autonomo autottono nativo rischia di rimanere inchiodato all'interno di un mondo categoriale molto semplificato anche molto banalizzato perché l'educazione non si può ridurre alla relazione con l'altro e non si può neanche ridurre alla precettistica delle cose buone e delle cose sbagliate nel capitolo 9 affermi che il pedagogista rischia un torcicolo professionale cronico e poi fa riferimento al mito della caverna di Platone e alle sue catene che sono di molte picifogge ecco quali sono queste catene a tuo parere e perché non riusciamo a guardare nella giusta direzione di chi è la responsabilità beh le catene sono esattamente le culture colonizzatrici di cui ho parlato prima ma peraltro questo fenomeno ormai secolare che ha portato una serie di culture scientifiche a colonizzare lo spazio educativo non è mica colpa delle culture estrane è che c'è stato un grande vuoto pedagogico e quindi laddove c'è il vuoto dal punto di vista culturale non è possibile che rimanga tale sicuramente arriva qualcuno a dire la sua ed è quello che è accaduto il problema però è che se chiunque arriva porta il suo linguaggio non porta soltanto dei termini non porta soltanto un vocabolario porta proprio un modo di vedere le cose insomma non so avrete presente probabilmente l'abusatissima metafora del chiodo del martello ovvero se io come strumento ho soltanto un martello vedrò tutti i problemi sotto forma di chiodi e non riesco a vedere altro e questo è quello che accade se come strumento di interpretazione ho il trauma o come strumento di interpretazione fondamentale ho tutto ciò che ha a che fare con l'organizzazione è chiaro che io poi vedrò tutti i problemi educativi o in termini di traumi e di lavorazione del trauma o in termini di organizzazione che deve essere più o meno efficace efficiente migliorata sviluppata fatta crescere e accompagnabile è inevitabile in qualche modo cosa succede come in tutte le culture colonizzate gli educatori si trovano a mimare il linguaggio dei conquistatori che sono più forti culturalmente è straordinario e per certi versi anche inquietante scoprire come faccio io tutti i giorni facendo supervisione e formazione che quando gli educatori possono liberamente parlare utilizzando il linguaggio che hanno maggiormente appreso nel proprio lavoro che può essere appunto di tipo organizzativo oppure psicanalitico o quant'altro lo fanno con molta competenza con quel fenomeno mimetico per il quale quando veniamo ricoverati in ospedale nel giro di meno di una settimana parliamo il linguaggio del medico e anche quando arrivano i nostri parenti a farci visita parliamo loro con il linguaggio del medico perché? perché i linguaggi tecnici fondamentalmente sono affascinanti sono precisi parlano di un mondo tutto sommato intellegibile e quando gli educatori sono liberi di parlare con questo tipo di terminologia hanno una competenza linguistica elevata quando si trovano a parlare invece del loro specifico e cioè della quotidianità del gesto educativo sulla scena educativa rischiano di balbettare perché? perché non hanno linguaggio e perché sostanzialmente guardano altrove non si tratta di vedere la cosa giusta quindi io non credo che all'ordine del giorno ci sia imparare a vedere la cosa giusta perché non esiste un modo giusto di vedere un'esperienza educativa esistono diverse prospettive da cui guardarla cioè l'educazione non è proprietà privata del pedagogico che qualcuno gli ha sottratto l'educazione è un fenomeno della vita che può essere letta da una molteplicità di punti di vista differenti può essere vista da una prospettiva sociologica antropologica storica appunto psicologica medica può essere vista davvero in moltissimi modi e ognuno di queste prospettive offre sguardi preziosi che non possono essere gettati via che io non getterei via mai che frequento anzi con grande interesse per esempio di sicuro lo sguardo per quanto riguarda il mio interesse antropologico sull'esperienza educativa è uno sguardo che a me attira moltissimo e che frequento molto quindi non è che questi modi proposti da altre discipline di guardare educazione siano la cosa sbagliata il punto è non riuscire a vedere la propria cosa è come se un ingegnere riuscisse a vedere un ponte dalla prospettiva storica dalla prospettiva economica dalla prospettiva estetica dalla prospettiva che ne so io ambientalistica ma non riuscisse a vederla dal punto di vista ingegneristico voi salireste su un ponte costruito da un ingegnere che non riesce a vedere il ponte in quanto ingegnere io non lo so se lo farei eppure quello che rischia di accadere nel mondo educativo è proprio un problema di sguardi in una lo racconto questo sul libro come tante altre cose che mi sono capitate negli anni facendo il mio mestiere a un certo punto una educatrice di un'equip molto scoraggiata devo dire abbassa le spalle fa un sospiro e dice ma questa cosa tu ce l'hai fatta vedere già un sacco di altre volte perché poi quando ricapita una situazione simile continuiamo a vedere altro o meglio continuiamo a non vedere quello che tu ci stai indicando la mia risposta è stata molto sintetica credo molto suggestiva ce l'ho detto se non riusciamo a vedere qualcosa che abbiamo davanti a noi possono esserci solo due cause o siamo ciechi ma io non credo che gli educatori siano ciechi oppure stiamo guardando dall'altra parte ed è questo che accade la molteplicità delle culture che parlano di educazione da prospettive le più diverse spingono gli educatori a guardare sempre da qualche altra parte e a non guardare quello che hanno davanti agli occhi quello che hanno davanti agli occhi torno a ripetere è la scena educativa che calcano è l'esperienza educativa che producono nell'incontro diretto con gli attori dell'educazione stessa quindi qual è il ruolo della consulenza pedagogica in tutto questo è quello di rimettere al centro la scena educativa è quello di aiutare chi fa educazione a ruotare il collo tra l'altro è anche terapeutico per via del famoso turcicollo ruotare il collo per provare a guardare ciò che hanno tra le mani a ruotare il collo Grazie.